Carlos Alcaraz ha preso un brutto gomito dal difensore del Cagliari, ieri Mina. In quell'occasione, il giocatore della Juventus ha dovuto lasciare il campo per essere assistito dai medici. Tuttavia, il brutto gomito di Mina su Alcaraz non è stato sanzionato né dall'arbitro né dal VAR, causando così l'indignazione dei tifosi della Juventus. Ieri, in un'intervista a Sport Mediaset, l'ex arbitro Graziano se sarà dato il suo verdetto sull'episodio del gomito al giocatore della Juventus. Ho visto molte gomitate di questo tipo. Se fosse stato a centro campo, sarebbe stato sicuramente punito, ma il fatto che sia avvenuto all'interno dell'area di rigore non giustifica l'adottare misure diverse. Per me è un rigore, è un errore doppio dell'arbitro e del VAR, ha detto Graziano Cesar.